In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapienzie, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, vorrei terminare questa volta il discorso sugli ornamenti dell'altare. La volta precedente vi ho parlato degli ornamenti fissi, ma ce ne sono anche altri. Gli ornamenti fissi, come ricordate, sono le tovaglie, i candelieri e la croce. Ora vi voglio illustrare le carte gloria. Le carte gloria sono delle tabelle che vanno appoggiate al gradino del dossale, al gradino inferiore del dossale. Ve ne sono due piccole che vanno disposte ai lati e una grande al centro. Queste carte gloria vanno tolte dopo ogni messa. Sarebbe meglio toglierle dopo ogni messa. Quella centrale può anche essere appoggiata alla porticina del tabernacolo. Nella carta gloria che troviamo in cornu epistole, cioè nell'angolo dell'epistola, troveremo le preghiere che servono a sacerdote per la benedizione dell'acqua e il lavabo delle mani. Nella carta gloria centrale troviamo le preghiere che servono a sacerdote in vari momenti della messa, ma soprattutto quelle che riguardano la consacrazione del pane e del vino. Nella carta gloria che vediamo in cornu evangelii, cioè nella parte sinistra dell'altare, troveremo il Vangelo di Giovanni, cioè l'inizio del Vangelo di Giovanni, che si recita, che il sacerdote recita alla fine della messa. Le carte gloria sono obbligatorie, è necessario che ci siano, perché? Perché riportano quelle preghiere che il sacerdote non può leggere direttamente dal messale, cioè dal libro della messa. Perché non le può leggere direttamente? Perché in quei momenti, in certi momenti, sono richieste delle posizioni per cui non è possibile che contemporaneamente legga sul messale. Ad esempio, per quanto riguarda la carta gloria in cornu epistole, che contiene la preghiera di benedizione dell'acqua e del lavabo delle mani, ecco, in quel momento il messale si trova in cornu evangelii e lui è impegnato in questi riti che fanno parte dell'offertorio. Quando invece recita le preghiere di consacrazione, è vero che il messale non è molto lontano, ma il sacerdote è concentrato sull'ostia e sul calice. Ecco, quindi sono importanti perché racchiudono quelle preghiere che il sacerdote non potrebbe leggere direttamente dal messale, quindi o le sa a memoria, ma anche qualora le sapesse bene a memoria, una svista è possibile a tutti. Vediamo quindi al leggio, l'altro ornamento è il leggio, che sostiene il libro della messa, del messale. In questa illustrazione noi non lo vediamo, ma nella prima parte della messa e alla fine della messa, il leggio con il messale si trova in cornu epistole, lato destro, nella parte centrale, nel lato sinistro. E il leggio può essere sostituito anche da un cuscino. L'altro ornamento dell'altare sono i fiori, ecco, li vediamo qui, i fiori disposti in modo simmetrico, vedete qui due e due vasi con dei fiori, tra un candeliere e l'altro. Quindi sempre in numero pari anche i vasi di fiori. I vasi di fiori devono contenere fiori freschi, possibilmente, oppure in seta o altri materiali preziosi. Quando è che i fiori devono essere tolti dall'altare, e l'altare non deve avere fiori? Nei tempi di penitenza, per esempio, quaresima, tempo di passione e avvento. Oppure nelle celebrazioni dei defunti. Ma anche nei tempi di penitenza ci sono delle eccezioni, per esempio quando si fa un'adorazione solenne con benedizione eucaristica, ci vogliono i fiori, sono indicati. Nella terza domenica di avvento, chiamata anche domenica in gaudete. Nella quarta di quaresima, chiamata anche domenica in letare, cioè quando i paramenti sono rosacei. Poi nella messa in cena domini, giovedì santo. Mentre nella domenica delle palme, si possono usare rami di palma o di olivo. Vi sono anche altri ornamenti, spesso nelle chiese, che riguardano l'altare. Sono i tappeti, disposti sulla predella e nei gradini. A volte tutti i gradini sono completamente coperti da un tappeto unico. Oppure ci sono delle guide che conducono all'altare, disposte nell'asse dei gradini, o l'asse frontale o l'asse laterale. Poi vi sono, ecco i tappeti, poi i reliquiari. Vi possono essere dei reliquiari, anche questi generalmente disposti sui gradini del dossale, qui non ce ne sono, ma sempre in numero pari e disposti in modo simmetrico tra un candeliere e l'altro. Un altro ornamento che potremmo trovare spesso è il paliotto. Questo è il paliotto. Questo altare ha il paliotto, cioè una tela di seta o altro materiale prezioso, fissata e tesa da un telaio di legno, che non si vede, ovviamente è ricoperto, deve coprire tutta la parte anteriore dell'altare e il colore può essere nata in modo vario. Noi vediamo questi ornamenti costituiti da riquadri formati con le passamanerie dorate, spesso. Il colore, dicevo, del tessuto può essere vario e dovrebbe rispettare i tempi liturgici. Il paliotto non è obbligatorio, specialmente quando l'altare è molto bello. Va comunque tolto sempre, se c'è, il venerdì santo. Io vi parlo di queste cose, carissimi fratelli, non solo, diciamo, per capire con quanto amore hanno circondato l'Eucarestia in questi secoli, ma anche perché l'architettura e gli oggetti, l'arte sacra, insomma, si è evoluta insieme alla liturgia in questi secoli fino a metà del secolo scorso. Per comprendere bene quindi la liturgia cattolica è utile conoscere anche con quali forme è stata espressa dal punto di vista dell'arte. Sialo dato, Gesù Cristo.